Sempre in Cilento sarà un'edizione itinerante quella del Mediterraneo Video Festival. Con l'inviato Enzo Ragone scopriamo qualche anticipazione. La venticinquesima edizione del Mediterraneo Video Festival sarà itinerante e attraverserà alcuni dei borghi più belli del Cilento, da Mandia a Terradura, da Stela Cilento ad Ascea, borghi che custodiscono un importante patrimonio culturale ed antropologico a cui si ispira il festival che si svolgerà dal 7 all'11 settembre. Quest'anno sarà un festival che ha come parola d'ordine green, perché c'è molto interesse a fermarsi un attimo su quello che sta accadendo, quindi tutti i disastri climatici, la gente deve riflettere, ma anche un ritorno alla vita semplice delle comunità, tant'è che è un festival mediterraneo sull'identità delle comunità del Parco Nazionale del Cilento e quindi questo da una spinta in più siamo un faro che porta l'arte a 360 gradi in queste comunità che hanno collaborato in modo molto incisivo con noi. Grazie. Grazie. Grazie.